oggi vediamo un grande effetto di cipriani andiamo a vederlo che cosa consiste l'effetto molto semplice uno spettatore taglierà una porzione di carte mettiamo queste da questa porzione tagliato lo spettatore ne andiamo a prendere una parte anche noi e tutto il resto verrà steso al naso ora diremmo allo spettatore che noi mettiamo una carta sul tavolo e lui può prenderne una qualsiasi dal suo nastro e metterla qua sopra possiamo prenderne anzi no diciamo allo spettatore che può prendere una lui questa volta e una la mettiamo noi tutto il resto non ci serve ora se andiamo per ordine una carta l'abbiamo messa noi una lo spettatore una la messa lo spettatore una noi togliamo il resto del mazzo e signori due gemelle ma non solo le uniche quattro carte nere in un set di carte rosse tagliate dallo spettatore veramente bella questa routine si può fare anche in pronto dipende sempre dalle capacità gestionali che siano del pubblico e poi è semplice insomma da realizzare andiamo andiamo a studiare insieme su stamattina che al buro poco allora il setup è molto semplice dobbiamo avere quattro carte nere due coppie di gemelle diciamo intervallate una al centro e l'altra coppia separata ai lati o due donne due otto o gli otto stanno ai lati a noi non interessa o anche se non sono queste carte altra cosa bisogna avere la parte superiore del mazzo tutte carte rosse quindi fatto questo piccolo setup sopra abbiamo quindi sulla cima del mazzo con le quattro carte nere e tutte le carte rosse eseguiamo un falso miscuglio quello che è meglio vi riesce ragazzi ne stiamo vedendo abbastanza diciamo sul canale quindi se ci seguite studiate uno che più vi è consolo quindi cosa succede mettiamo il mazzo da una parte invitiamo uno spettatore a tagliarne circa la metà quindi posa la porzione noi ne preleviamo quattro cinque insomma due quattro sei sette non prese e sentiamo al nastro tutto il resto ora diremo allo spettatore che se noi mettiamo una carta sul tavolo lui può metterne una qualsiasi e gliene facciamo prendere una dal nastro poi facciamo per prendere un'altra carta in realtà prendiamo un break sotto tre carte e ritorniamo sui nostri passi dicendo allo spettatore anzi questa volta prende la prima tu quindi lui prenderà un'altra carta noi metteremo la tripla che abbiamo tenuto al break al pignolo quindi per lo spettatore quattro carte sul tavolo in realtà ce stanno sei tutto il resto possiamo tranquillamente posarlo ora prendiamo in mano le sei carte e avviciniamo il mazzetto a noi giriamo la prima carta faccia in atto dicendo che quella che abbiamo messo noi prima è la seconda lo spettatore poi viene la carta dello spettatore che andiamo a girare faccio in atto che è un 8 quindi facciamo un push di quattro carte di tre carte scusate oppure facciamo un un po down all'ultima dobbiamo praticamente prelevare le tre carte e metterla sul mazzetto così che sotto la carta nera noi possiamo scaricare le due rosse sopra al mazzetto centrale e poi diciamo questa è l'ultima che abbiamo girato noi che abbiamo preso noi mostriamo l'assurda coincidenza di due gemelle trovate ma ancora più assurda perché trovata in mezzo a un set di carte rosse tagliate appositamente dallo spettatore penso che veramente valga la pena di conoscere questo video ricordatevi che tutto quello che mostriamo deve essere per forza obbligatorio facendo parte di un proprio repertorio noi continuiamo a suggerire idee idee poi c'è qualcuno che sta capendo il fine di questo canale quindi sta facendo proprio i principi delle idee per poi magari tirare fuori qualche sua routine ma anche in un ampio panorama di quello che stiamo fornendo potrete essere in grado di crearvi un vostro repertorio su misura un abito appositamente tagliato per voi detto questo ragazzi vogliamoci sempre bene viva l'amore giù ciao